Grandi emozioni quelle che si potranno vivere lunedì 24 giugno nel cuore di Sondrio. Tutti potranno infatti seguire in diretta da Lausanna la votazione del Comitato Olimpico Internazionale che deciderà se sarà la candidatura di Milano Cortino o quella di Stoccolma Ore ad ospitare le Olimpiadi Bianche del 2026. Un maxischermo si accenderà alle 15 in Piazza Garibaldi e trasmetterà la diretta con la presentazione delle due candidature, video delle passate edizioni dei giochi e immagini inedite dei nostri atleti fino ad arrivare alle 18 alla proclamazione ufficiale da parte del CIO e alla firma del contratto. Verranno distribuiti gadget e cappellini dedicati ai giochi olimpici. In agenda musica, attività sportive organizzate dalla Coni di Sondrio, degustazioni tipiche e il mercato Campania Mica con prodotti a chilometro zero.